Musica E se avete visto questo nuovo video siamo qui oggi con il dodicesimo episodio di Stalker Shadow a Chernobyl Nel episodio precedente abbiamo portato i documenti al barista E' stato un episodio molto molto balloso ma adesso forse troveremo un po' di azione Intanto siamo andati a finire Perché la freccia mi indica ancora che siamo in un punto sbagliato Ok noi siamo qui Ah no nessun punto sbagliato perfetto siamo messi Stiamo andando bene dobbiamo andare dietro verso di qua Ok lì c'è Nemici 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 Ok vediamo un po' di Ok questa qua è una situazione molto molto brutta Perché sono tutti come potete vedere molto ben nascosti E questo mitra non è famoso per la sua precisione Infatti non riesco nemmeno a prenderlo Calcolando anche che siamo abbassati eh Ok uno l'abbiamo seccato Ecco gli altri lì Ok perfetto ragazzi Dovrebbero essere morti tutti Dovrebbero però eh Ok magari sbagliamaci ad entrare dentro così E vediamo guai Ok muori Perfetto Un bel colpo alla testa Ci voleva Magari prendiamo l'MP5 con i carriatori modificati così Possiamo Risparmiamo quelli della cappa Adesso saliamo su vediamo un po' cosa avevano questi tizi Eh vedete Avevano lo stesso mitra mio Quindi Ok un integratore Unzioni Il medit non lo prendiamo Perché tanto ne abbiamo Parecchi Che mi sembra di aver visto tipo il silenziatore Ok Vediamo un po' qui Altri munzioni Munzioni Ok poi siamo Ok qui c'è Ragazzi sono molto incoerente Perché Dico di stare Oh L'M4 ragazzi Siamo fuori di peso Ma guardate che meraviglia di arma che abbiamo Poi non abbiamo munzioni per questo Per questo mitra Questo sicuramente ce l'ha Sì eccole Però ragazzi sono sempre troppo poche Quindi io direi di lasciarlo Di Di toglierlo questo mitra Prendiamo tanto le munzioni Quando avremo Avremo più munzioni Potremmo sostituirlo con l'MP5 appunto Questo si è carbonizzato Guardate quanti ragazzi Madonna E' pieno E' pieno Ok Entro Oh quello mica l'ho visto Si è mimetizzato con la ruota del camion Maledetto Pezzo di merda Muori Prendiamo tipo Il serbatoio Però mi è stato No non esplode Ah si è esploso invece L'abbiamo anche seccato per bene Ci diamo Quello sulla torre Ok perfetto Ecco che se ne va il vostro elicone Voi siete i prossimi Politici di merda E' ok E' niente Vediamo un po' Di prenderci un po' di munzioni Di questi tizi Perché mi sa che Adesso infatti hanno tutti L'M4 Quindi prendiamo Soltanto le munzioni L'integratore anche Perché in questo modo Ecco Qui si può rompere Giusto si Poi qui ci sono radiazioni Ragazzi Meglio evitare Meglio evitare Ok dobbiamo trovare Adesso tipo Una specie di porta Che ci porta Cioè no una porta Un Il Diciamo la zona Dove ci porta nella Ok cosa sta succedendo Qui Ok che cos'è Ok dobbiamo dare Oddio che succede Ok Ok eccoci qui di nuovo Ragazzi dobbiamo cercare Di andare a aiutare Gli scienziati Che sono in difficoltà Ok Dobbiamo fare un po' La Rambo qui Non possiamo fermarci Troppo ai ripari Per sparare ma Dobbiamo muoverci Velocemente Perché non sono molto vicini Gli scienziati da qui Ecco Poi li vedo da qua Già eh Lancia razzi No ragazzi Non ho mai avuto Non ho mai preso Lancia razzi calcolate C'è una cosa C'è una cosa incredibile Ok da questo ci ritorno Sicuramente Eccoci qui Ok Perfetto Ecco qui Gli scienziati Questo è il medikit giallo Addirittura che ti ripara Anche dalle radiazioni Facciamo a prendere Munzioni Del Dell'M4 Che prima o poi Prenderemo Ok magari L'RPG Lo lasciamo aperto I ragazzi Perché tanto Non ci facciamo nulla Ecco Altre munzioni Ok abbiamo Non tante munzioni Perché comunque Non è che sia potentissimo Come arma Quindi Meglio se ne accumuliamo Parecchie munizioni Prenderemo il professor Q Club Sì Ok dobbiamo portarlo All'uscita Per gli antar Quindi Lo dobbiamo portare Al nostro obiettivo Adesso Stanno agli altri nemici Quindi Direi di Curarci Un salvataggio veloce E cominciare A uccidere tutti Ok Stanno aggando tutti Stanno aggando in massa Ok Ok M'ha detto Ok L'abbiamo Seccati tutti quanti Adesso prendiamoci Le munzioni No questo non ce l'abbiamo Le munzioni Ok Eccole qui Quindi ragazzi Io direi di fare Questo cambio Tra MP5 Io lo lasciamo Lasciamo anche tutte No Le munzioni E Direi di prenderci L'M4 Vediamo un po' questo Com'è in Stato Insomma Non è proprio Al massimo della vita Prendiamoli un po' tutti Vediamo Facciamo un confronto Questo è proprio Da schifo Ecco Lasciamoci le munzioni Lascia Ok ci teniamo questo Dai ragazzi Missione fallita Porta Guglov A iantare Perché Cosa è successo Tra i documenti Dell'X16 Ok ragazzi Abbiamo fallito La missione Però Il bello di questo gioco È che si può Continuare lo stesso Adesso però Voglio vedere Come ci passiamo Qui sotto Visto che non abbiamo Una tuta protettiva Come gli scienziati Dobbiamo fare Tipo tutte Accrobazie Così Ecco adesso Dove passiamo Ok ragazzi Forse Ce la facciamo Anche senza Lo scienziato A passare Vediamo Se riusciamo a salire Qui sopra E sali No Andando Ho riuscito a salire Ok eccoci No mi sono castrato Ragazzi Mi sono castrato E daie Sali Ok Perfetto Di qua Di qua Ok l'uscita Però dov'è Qui vedo Tutto chiuso Vedo Non è che mi sono andato Anche a strada No ragazzi Che Che c'è Mi sono rimasto male C'è pensavo Che si poteva Che si poteva Passata qua Invece no È chiuso Quindi niente ragazzi Dobbiamo tornare Indietro Qui c'è qualcosa Sicuramente Però va bene Dai ragazzi Niente Facciamoci tutta la strada Indietro Adesso Ok Ok eccoci qui Di nuovo Attenzione Qui c'è un amico No ragazzi È fenomenale Il suo Stamme 4 Io pensavo che Non era Tanto Tanto potente Invece con Con un colpo L'abbiamo seccato A quello Guardate ragazzi Che potentissimo Invece Ok Prendiamoci le munizioni Come peso Invece siamo messi Ok 45 Abbiamo anche recuperato Abbastanza peso Ragazzi Non so Adesso controlliamo Un po' la mappa Vediamo Noi siamo qui Si possiamo avvicinare Di più Si Perché 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 Messo il Zoom avanti Ecco Ok Siamo qui Non so Non so Come possiamo Agliarci qui Veramente Allora ragazzi Però comunque Per questo episodio Direi che Possiamo Ah no Ecco da dove Possiamo Che deficiente Che so Direi che Per questo episodio Comunque possiamo Concludere qui Quindi Come sempre Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare Mi piace Un commento E se siete già Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche La pagina di facebook Che trovate nella descrizione Di questo video E niente Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Che non si è tutto E bye bye